La filia CGL ha scelto come simbolo della protesta il cantiere fermo da anni delle palazzine Ater di Via Tavo a Pescara. Aperto nel 2006, finanziato con circa 11 milioni di euro, doveva essere completato nel 2011 dando così alloggio a 64 famiglie, ma un contenzioso con la ditta ha fatto sì che sino ad ora sia rimasto uno scheletro. Questo cantiere, secondo la filia CGL, è lo specchio dell'edilizia regionale, ferma al palo e in crisi profonda. Nonostante in regione i sismi del 2009 e del 2016 abbiano creato il più grande cantiere d'Europa per quanto riguarda la ricostruzione. In provincia di Pescara il settore dal 2008 al 2016 è praticamente dimezzato, sia come numero di imprese che come addetti. Dati pesanti per invertire i quali, dicono i rappresentanti sindacali, occorrono politiche adeguate sia a livello regionale che nazionale. Le ore lavorate sono dimezzate, la massa salari è passata da 48 milioni a 20 milioni, stiamo parlando di 3.000 lavoratori in meno, quasi 500 imprese che non sono sparite, che si sono trasformate in lavoratori in nero, in falsi lavoratori autonomi, i lavoratori che si sono trasferiti all'estero per cercare il lavoro. Con la contraddizione che in Abruzzo abbiamo il più grande cantiere dell'Europa che è la ricostruzione dell'Aquila. Quindi già con questa ricostruzione e post-sisma dell'Aquila dovremmo avere tanto di lavoro per i nostri lavoratori edili. Così non è. Se si allunga lo sguardo al settore nazionale i dati non sono certo migliori. L'edilizia trascina dietro di sé un enorme indotto, oggi sempre più in crisi. Esempi ce ne sono anche in Abruzzo, vedasi la crisi della ita al cementi di Scafa. L'edilizia così come la conoscevamo fino alla metà degli anni 90 non c'è più. Oggi, soprattutto in Italia, bisogna puntare sul restauro e sulla ristrutturazione del patrimonio immobile esistente. Noi diciamo con forza che siamo consapevoli che quel modello di sviluppo che abbiamo conosciuto, che riguardava il nostro settore, non verrà più. Siamo consapevoli del fatto che oggi dobbiamo guardare più che alle nuove costruzioni, dobbiamo guardare alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione, alla ristrutturazione, al restauro, a tutti questi temi che dal nostro punto di vista assumono un'importanza strategica. Però siamo anche consapevoli che quegli 800.000 lavoratori non sono spariti. Molti di quei lavoratori anche qui a Pescara e in Abruzzo sono lavoratori a nero. Noi vorremmo ricordare al governo regionale che fare una legge sulla congruità significa stare dalla parte della regolarità e della legalità. Più legalità, più regolarità significa anche più lavoro.